Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto da Rick Oggi andiamo a vedere assieme come cercare di ottenere l'airdrop di Lens Protocol Bene ragazzi, vediamo come cercare di prendere l'airdrop di Lens che rispetto agli altri visti è abbastanza diverso quindi ha dei canoni differenti perché solitamente negli altri bisogna swappare, aggiungere liquidità eccetera in questo no ma innanzitutto cos'è Lens Protocol? è una piattaforma social decentralizzata carbon free costruita su Polygon ultimamente le identità social decentralizzate sono molto ambite stanno andando alla grande tanti ne vogliono una perché tu sei possessore dei tuoi contenuti i tuoi contenuti saranno legati direttamente al tuo handle adesso andremo a vedere cos'è e come cercare di ottenerlo sempre legato all'airdrop eccoci qua, magari vi stiate chiedendo come mai siamo su OpenSea ebbene la maniera più facile e diretta per prendere uno di questi handle è comprarlo direttamente sulla piattaforma ce ne sono in giro circa 120.000 e 112.000 utenti li hanno già presi come vedete gli stati su OpenSea ce ne sono soltanto il 2% vediamo inoltre che il prezzo si aggira attorno ai 200 dollari quindi quello meno costoso è circa 200 dollari e voi magari direte perché me ne devo accaparrare una è un discorso legato alla scarsità ragazzi sono quasi finiti quindi come ben saprete quando ci sono poche cose in giro sono sempre più rare quindi anche ambite ovviamente dovete fare i vostri calcoli a riguardo questi non sono assolutamente consigli finanziari ci mancherebbe altro secondo noi però potrebbe valerne la pena per ottenere il potenziale airdrop dovrete avere per forza questi handle dove potete interagire direttamente con l'ecosistema lens a quanto pare inoltre questo airdrop dovrebbe arrivare molto presto comunque se non volete spendere questi soldi avrete un'altra via per ottenerlo anche se naturalmente è molto più difficile quella di interagire direttamente sull'app per Google Play ed Apple Store Favor potrete inoltre andare sull'app se volete collegare il vostro account vi verrà fornito l'indirizzo quando volete connettere il vostro wallet e potrete farlo anche da desktop in tutta tranquillità vi verrà fornito un indirizzo web lo digitate otterrete le informazioni per fare tutto su Favor troverete delle task da completare ogni settimana ne mettono una inoltre tenete sott'occhio il twitter ufficiale appunto di Favor perché pubblicano lo spreadsheet per vedere le leggibilità quindi se potrete prendere o meno il vostro handle dopo aver completato naturalmente le task che non è altro che un documento Excel di Google dove voi potrete andare a vedere il vostro indirizzo ecco qui che io ho cliccato sul link fornito su twitter direttamente da loro e avete la whitelist adesso mettiamo che voi avete già le vostre handle cosa dovete fare? dovete andare ad esplorare il Lensverse e tutte le sue Dapp sul sito ufficiale ne troverete circa una ventina e più interagirete con queste Dapp più saranno alte le chance di ricevere un airdrop andiamo a vederne alcune ecco qua ad esempio LensTube dove potrete guardare e caricare i vostri video tra l'altro ho testato in prima persona la piattaforma è molto reattiva tra l'altro qua vedete il nostro handle e un nostro video caricato un'altra Dapp è Lensster che è una sorta di Twitter anche qui si consiglia di interagire quindi scrivere dei post e commentare quelli degli altri andiamo a vedere l'ultimo Lensport che è un marketplace NFT dunque ragazzi in conclusione la certezza che questo airdrop avvenga non ce l'ha nessuno ma vi ripeto che si rumoreggia che dovrebbe essere abbastanza imminente l'ecosistema non è ancora troppo ampio però fatto bene qua ad esempio vediamo i partners di Lens alcuni nomi li avrete per forza già sentiti se siete nel campo crypto da un po' di tempo ad esempio R-Wave ed OpenSea ma immagino che abbiate sentito anche Polygon e probabilmente anche altri tra quelli presenti troverete tutti i link trattati nel video in descrizione inoltre vi invito ad andare a vedere i nostri video su altri airdrop LayerZero, Shardeum e Starknet fateci sapere anche la vostra su questo e gli altri airdrop e se vi piacciono questo tipo di contenuti bene ragazzi grazie a tutti per aver guardato questo video un abbraccio a tutti alla prossima sempre qua su HardRock Crypto yeah go ciao 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 ciao